Marco Maggio è uno dei grandi protagonisti nella vittoria della Velox di oggi contro il Tarvisio, gol assist, una prestazione da Otto in Pagella, siete d'accordo? Ma generalmente preferisco non darmi voti da solo, ecco. Cioè se il mister magari la pensa uguale, allora concordo. Ma se deve tirare fuori qualche critica o pensa che possa far meglio, lo accetto e accetto le critiche. Senti Marco, alla fine questo fatto di dover vincere a tutti i costi ha fatto meglio a voi che al Tarvisio, perché siete scesi in campo veramente un atteggiamento positivo, grintosi, forti. Sì, purtroppo siamo una squadra che quando ci troviamo magari anche all'ultima spiaggia, tiriamo fuori il carattere che magari è anche particolare del paese, un carattere forte. E nelle situazioni di difficoltà molto spesso ne usciamo fuori anche bene. Squadra molto giovane, insomma però la tua intesa con Josef Dereani davanti è tanta roba, nel senso potete veramente far male a tanti. Sì, sì, ormai sono quattro anni che giochiamo assieme, lasciando la pausa diciamo nel mezzo per causa del Covid. Ci conosciamo bene. A proposito di Covid, insomma qualche cosa ha influito nelle vostre vite questo stop di quasi due anni? È stata quasi una liberazione quest'anno, anche fare solo magari questa Coppa che alla fine non ha un significato importante, magari come un campionato di prima categoria, però ha dato un po' di speranza anche alle società del Canico che sembravano ormai quasi affrante. Adesso siete agli ottavi, cosa ti aspetti? Siete un po' una mina vagante, una squadra giovane, imprevedibile, quindi alla fine potete... Noi speriamo di portare in campo anche domenica prossima la grinta che avevamo oggi e anche la grinta che avevamo con Sutro, nonostante il risultato sfavora. Penso che queste due partite qua sono state magari forse le uniche due della Coppa di quest'anno dove siamo scesi in campo con mentalità e con voglia di vincere. La mentalità anche si è vista negli ultimi minuti sul 4-0 al novantesimo, andavate a pressare nell'orario, insomma è un bel segnale. È un bel segnale, anche per domenica prossima, speriamo che anche domenica prossima arriviamo con questo carattere, con questa voglia di vincere.